Dimensionamento scolastico. Le province e la città metropolitana hanno tempo fino al 7 dicembre per inviare alla regione i rispettivi piani sulla programmazione della rete scolastica e sull'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno 2021-2022. La giunta dovrà poi approvare e trasmettere i piani all'ufficio scolastico regionale entro il 22 gennaio 2021. E quanto prevede la delibera su dimensionamento e offerta formativa approvata a maggioranza dal Consiglio regionale e illustrata dall'assessore all'istruzione Elena Chiorino, che ha anche presentato due dei quattro emendamenti approvati dall'Aula. Nello specifico, gli emendamenti di giunta, così come quello a firma della consigliera Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle, riguardavano proprio lo slittamento dei termini previsti per i vari step, per consentire a enti locali e istituzioni scolastiche di completare le procedure, visto il rallentamento e i problemi dovuti all'emergenza Covid. Viene rafforzata l'indicazione di realizzare la programmazione secondo un modello operativo basato sulla massima concertazione e collaborazione. La programmazione dovrà essere il risultato di progettualità condivise tra tutti gli attori e adeguatamente compiute proprio per consentirne un agevole ricepimento nel territorio. Confermati gli obiettivi, tra cui il mantenimento del servizio nei comuni montani e marginali, mentre l'istituzione di nuove scuole paritarie dell'infanzia è prevista solo in caso di statalizzazione di quelle che cesseranno il servizio. Per quanto riguarda il contingente dei dirigenti scolastici, restano validi per l'assegnazione i parametri minimi di 600 alunni in zone di pianura e 400 alunni nelle aree di montagna. Per l'annualità è sospesa l'attivazione di nuovi licei musicali e sportivi che richiedono una programmazione complessa, difficilmente conciliabile con l'attuale situazione sanitaria. Approvato anche l'emendamento presentato dal consigliere Carlo Riva Vercellotti, Forza Italia, che prevede l'armonizzazione della nuova offerta formativa con la rete dei trasporti pubblici già esistente. Critici rispetto al testo i consiglieri Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, e Diego Sarno, Partito Democratico. Un documento che non risponde in questo momento, crediamo, alle esigenze dell'attualità. Non capiamo come non si possa trovare uno slancio in più per adattare la scuola in questi momenti e in particolare alla programmazione rispetto al coronavirus.